Alla ricerca di un futuro migliore erano arrivate tra pregiudizi e pareri contrastanti di cittadini e forze politiche. Dopo un inverno trascorso all'Hotel Plaza, all'Ido di Fano, i 31 profughi richiedenti asilo politico sono stati trasferiti. Inizia la stagione estiva e termina dunque anche l'ospitalità nella struttura in riva al mare. Questa mattina, dopo strette di mano, saluti e abbracci anche con il titolare dell'albergo, Alessandro Calamandrei, i giovani provenienti da vari paesi africani e asiatici sono partiti alle 9.40. Un autobus li ha attesi e trasportati all'Hotel Domus Marie ad Aqualagna. Come vi siete trovati a Fano? Vogliamo ringraziare la città di Fano per l'ospitalità e tutti coloro che ci hanno accolto. Fano è una bella città e qui ci siamo trovati bene. Delle polemiche scatturite anche in questi giorni, che cosa ne pensi? Dal nostro arrivo non abbiamo fatto niente di male e niente di stupido, quindi non capisco chi si lamenta. Noi non ce l'abbiamo con nessuno. Quali sono ora le tue aspettative? Siamo fiduciosi, preghiamo Dio perché possiamo avere i nostri documenti, affinché il governo italiano ci dia i documenti, perché solo con quelli potremmo pensare ad un futuro, trovare un lavoro, eccetera. Tra critiche e speranze si sono trovati bene nella città della fortuna, ma d'altra parte sono felici di poter vivere una nuova esperienza, anche lontana da qui. Preferivi rimanere a Fano o sei contento di andare ad Aqualagna? Siamo molto felici di essere stati qui questi tre mesi a Fano. È una bella città, i fanesi sono brave persone. Ora andremo in un altro posto, non lontano da qua, e magari un giorno potremo ritornare a visitare questa bella città. E prima di partire Prince ha salutato così Fano e i suoi cittadini. Grazie Fano, grazie Fano, grazie Fano.